Ultime ore di campagna elettorale per convincere gli indecisi o semplicemente per cercare consensi sul programma elettorale. Il candidato presidente della coalizione civico-democratica, Giovanni Legnini, puntualizza le priorità per l'Abruzzo. La nostra coalizione, le candidate e i candidati, moltissimi giovani, donne, cresce. Cresce perché è in sintonia con le aspettative, le esigenze, le domande della società abruzzese e noi ci siamo impegnati con molta determinazione a tener fede agli impiegni che abbiamo assunto. Grande riforma dell'istituzione regionale, superamento delle emergenze, una politica capace di interpretare le grandi potenzialità del nostro sistema produttivo, del nostro ambiente naturale, delle nostre risorse, anche storico-culturale. Insomma, un progetto di cambiamento forte e importante per la nostra regione. In caso di vittoria di Giovanni Legnini, quali saranno i primi atti dell'Aggiunta regionale? I primi atti saranno quelli di sbloccare la ricostruzione del post-sisma 2016-2017 con molta forza, di mettere mano alla riforma dell'istituzione regionale per renderla più efficiente, più vicina ai cittadini, per farla tornare ad avere la forza dell'organo legislativo che è, come previsto dalla nostra Costituzione, rimodulare le risorse disponibili, quelle del masterplan dei fondi europei, per garantire la manutenzione delle strade, per dare impulso alla nostra economia allo scopo di creare nuove opportunità di lavoro. Il governo gialloverde sta portando il nostro Paese nella recessione. Noi vogliamo dare impulso alla crescita e all'occupazione. Appunto, in questi giorni molti esponenti del governo gialloverde stanno calpestando l'Abruzzo, in lungo e in largo. Secondo lei, l'esito elettorale di questa competizione influerà sul governo nazionale? È un'invasione senza precedenti, quella alla quale assistiamo, che mette in ombra i candidati della destra e dei 5 Stelle. Stiamo animando un progetto politico nuovo, fatto di civismo, di radicamento popolare, delle migliori culture politiche del nostro Paese e della nostra regione. Quindi, competiamo, concorriamo per guidare il futuro di questa regione. Se ciò accadrà, e io ho ragioni per ritenere che ciò possa accadere, sarà un segnale forte per gli abruzzesi, ma sarà un segnale anche per la politica nazionale. Una pagina di buona politica che mi auguro possa essere osservata con interesse anche al di fuori dei confini della nostra regione. Dalla mezzanotte di oggi scatta il silenzio elettorale e domenica seggi aperti dalle 7 alle 23.